Ci troviamo in compagnia di Michele Cristofaro, il mister dell'USG di Falco. Mister, com'è andata ieri la partita contro il Badolato? Ieri abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato benissimo. Sono felice sia per i ragazzi e sia per la società. Abbiamo vinto 2-1. I ragazzi hanno giocato nel modo giusto, correvano tutti, hanno dato il massimo, hanno dato tutto. Due sprendi di gollo, uno di Domenico Conidi e l'altro di Kevin Nifodaro. Hanno dato oltre il 100%. Attaccavano e difendevano tutti insieme. Mister, com'è mai questa trasformazione dalla sosta di Natalia ad oggi? Ho rivisto l'unione, le competenze del gruppo e ieri come le ultime partite hanno dimostrato di essere una grande squadra. Abbiamo fatto una bella cavalcata da gennaio fino a qua, arriviamo a penultimi. Abbiamo superato le difficoltà con lo spirito del gruppo. E adesso? Già da domani penseremo alla prossima partita con San Canoggi e l'ultima del campionato. E poi vedremo con la società il da farsi per il prossimo anno.